Covid-19 in arrivo a 20 milioni per 102 comuni siciliani, destinatari delle risorse anche 4 comuni siracusani. Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre 20 milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei Comuni per l'anno 2020 per recuperare i deficit legati all'emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul piano di sviluppo e coesione 2014-2020 destinate ai comuni che ne hanno fatto richiesto. Per effetto del decreto, a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, la regione siciliana sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al Fondo Investimenti per un importo di 20 milioni e 848 mila 240 euro. Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto del 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro. Le risorse liquidate con il precedente decreto e con quello di erno andranno a colmare quel deficit di investimenti a finalità sociale accusato dai comuni a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, dice l'assessore regionale delle autonomie locali Marco Zambuto. Il governo regionale continua a sostenere i comuni in maniera particolare a seguito del lungo periodo che ha determinato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali. Ad essere interessati sono in tutto 102 comuni di cui 26 ricadenti rispettivamente nel Catanese e nel Messinese, 17 nel Agrigentino, 15 nel Palermitano, 7 della provincia di Enna, 4 comuni rispettivamente situati nel territorio di Ragusa e Siracusa, Canigattini-Bagni, Carlentini-Priolo e Rosolini e 3 del Trapanese.